Il fatto che siano morte delle persone negli ultimi giorni e ci sia un'attenzione mediatica spasmodica su questo è grave, nel senso che questi fatti avvengono quotidianamente nell'indifferenza di gran parte di questo paese e avvengono per tanti motivi diversi in tante situazioni diverse che vanno indagate e su cui bisogna lavorare per cambiare questa situazione. L'impressione più in generale è che comunque il Covid abbia forse catalizzato la massima attenzione sul tema specifico e il tema della prevenzione di sicurezza nei luoghi di lavoro più in generale sia stato un po' offuscato anche da questa centralità. Non è cambiato l'approccio complessivo al tema della prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Spesso, troppo spesso viene ancora considerato marginale e residuale nel binomio invece scendibile lavoro e sicurezza e questo è un dato.